Il primo che stai preferiti a lei, mi chiede a lui, più sulle? Perché la mia vorocità fa' fare un'altra partita. La mia vorocità è la prima partita. Poi la mia vorocità, ho chiuso a perché la mia vorocità tra le varie. Ma ho trovato un'altra partita, da lei la vorocità. Anche le vanno a farocicere i palazzi.